Da Padova a Venezia, dal Veneto a Roma, Teatro Sistina, Pinocchio, ti piace il musical, Sonia? Sì. Lo frequenta da spettatrice? In Italia non molto, ma sì, lo vedo e l'ho visto e mi piace molto. Pinocchio, Teatro Sistina sino al 23 maggio, protagonisti pubblico tutti insieme, come facciamo di notte, la domenica, sul Rai 1, quando parliamo di teatro. Ecco. E fammi notta, legno di vino, mi strizzi l'occhio, lo chiami, lo chiami, lo chiami, ti chiamerò Pinocchio. Sono passati sette anni, era il 14 marzo del 2003 quando questo Pinocchio debuttava e addirittura lasceva un teatro anche per lui. Sembra che non sia passato un giorno, in realtà siamo oltre 400 repliche e sono un po' cresciuto con questo Pinocchio, anche se in realtà negli ultimi anni, per gli spettacoli che mi riguardano, mi hanno fatto completamente dimenticare di essere adulto. Pinocchio, questa è la nostra casa. Pinocchio, questa è la nostra casa. Ho rivalutato questa favola, interpretandola, perché io sono stato uno di quei ragazzini che Pinocchio non l'ha mai amato nell'infanzia, perché forse non trovavo in questa fiaba una via di fuga, già succedeva nella vita quello che nella favola mi si diceva, non fare questo, non fare quello, si diceva il bugietto che esce il naso e invece in realtà questo spettacolo dà dei messaggi molto precise, molto belli riguardo alcuni valori che ogni tanto trascuriamo. Un insetto ripugnante? No, un grillo, ma parlante! La fata turchina in questo musical, ma come anche nel libro di Collodi inizialmente, è una fata bambina. Io infatti rappresento la fata bambina, la bambina dai capelli turchini. Nessuno nasce per niente. Vivo con i miei animali notturni, il gufo, la civetta, il corvo. La fata turchina è un po' la sorellina maggiore di Pinocchio. Ecco, lei che si sente responsabile per lui, perché è lei che dà vita a lui in una notte di temporale, a questo pezzo di legno e quindi poi sarà responsabile per tutte le sue marachelle. La novità che c'è in questo musical è il fatto che sono ringiovanito abbastanza, non sono più il cosiddetto nonno, ma un quarantenne, insomma, sono un po' all'età del bivio. E ho anche una compagna, amica, che da tanti anni mi sta al fianco e che spera in qualcosa di più. Io inizio a costruire questo burattino con la ferma idea di avere un oggetto tra le mani. Scopro con il tempo in realtà che questo burattino ha davvero dei sentimenti e quindi nel momento in cui lo perdo forse anche i miei sentimenti vengono fuori e scopro la reale paternità. È uno spettacolo pieno di colori, di luci, di trovate sceniche e quindi era giusto che si avvicinasse di più ad un gusto moderno. Quindi la favola è stata modernizzata proprio per questo motivo, per poter dare, insomma, anche ai giovani di oggi un modo per essere attratti da questo spettacolo. È uno spettacolo veramente straordinario. A me piace la musica dei Poo da sempre e ho apprezzato moltissimo per esempio il brano Figli che veramente prende moltissimo. Molti ricordi, molti colori, bellissimo. Molto bello, le musici, le canzoni, le scenografie. A parte mi piacciono molto i Poo per cui mi piace anche lo spettacolo. Molto la scenografia, tutto. E stavo dicendo proprio adesso, è sempre attuale. C'è sempre una ragione per essere e vivere. Questa rivisitazione del Pinocchio la trovo molto interessante, molto bella. Vabbè, un Pinocchio un po' moderno giustamente, però... Molto, molto bello, tutti molto bravi. Bello l'impegno artistico c'è, però è adatto per bambini. Molto carino, veramente carino. Eh, a me piace. No, è bellissimo, veramente. Per piccoli e anche per i grandi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.